Ragazzi, oggi è una bella giornata. Siamo in un posto segreto, segretissimo, top segreto. Non si può notare, non facciamo vedere nemmeno la selvaggina perché per non dare adito a... Prendiamo la verdura? Sì, la verdura. Tessa, prendiamo la verdura. Tessa è inferma con le segale. Sega di montagna, la famosissima segale di montagna. Yuri, 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 veniva, Yuri. Yuri si è spacchioso. Allora per gli amici del nord spacchioso è un modo di dire, come dire, Dino? Sì, bravo, non vale, non vale. Ciao fai. Comunque. C'è qua. Tessa, figliozza, come è tanto a posto? Comunque, grande giornata, Vincenzo. Grande giornata, bella giornata. Grande, 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 grande tanto, bella sì, bella sì, bella sì. Sudare tanto, scivoloni, quanti cascati? Una marea. Nino quanti? Quando poteva picchiato in terra? Un poco. Un poco. Un poco. Vabbè ragazzi, che dire? Noi continuiamo perché veramente ci attendono. Noi continuiamo, però vogliamo dire una cosa. Ci attendono. Che i boschi sono appetibili, no? Per la beccaccia. Puoi venire, vai. Se fossi beccaccia. Se fossi beccaccia, un giretto qui lo farei. Ragazzi, chiaramente per evitare, per evitare, non possiamo nulla perché non è giusto. No, 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 io qua c'ho la disacca, è chiusa. Non facciamo vedere niente. Beh ragazzi. Va bene. Grazie.